Ho detto prima, gliel'ho pure scritto, già mi sono preparato per la relazione ma no perché mi voglio presentare a farla è una delle libri più belle che ho visto, soprattutto i quattro capitoli scritti da lei gli altri sono due capitoli a parte ma in suoi si vede che c'è grande emozione, grande emotività e grande equilibrio nello stesso tempo ma soprattutto questa è la direttrice di vita che lei ha avuto e che offre sia per l'insegnamento evangelico ricevuto sia per la pedagogia e la psicologia che ci mette Complimenti e grazie